La Spark Me Space Academy di Matera aprirà i suoi spazi espositivi e divulgativi anche nelle ore notturne per rendere ancora più suggestivo il viaggio nello spazio. Con la nuova iniziativa Notti al Museo, a partire da sabato 9 settembre e poi a seguire ogni primo sabato del mese, la Spark Me Space Academy sarà aperta al pubblico per un percorso unico durante il quale realtà virtuale e reale si contamineranno e le esperienze immersive tra planetario, stazione spaziale, viaggio su Marte e viaggio in 5D si concluderanno con il pernottamento sotto la volta celeste del museo. Un'esperienza educativa estremamente affascinante che nella nottata inaugurale vedrà impegnati circa 50 scout provenienti da due reparti del Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani delle sezioni di Pari 1 e Matera. Oltre alla visita della Spark Me Space Academy alla scoperta del mondo spaziale, esploratori e capireparto si raggrupperanno in veglia sotto le stelle del planetario. Non resta dunque che attrezzarsi con sacchi a pelo e torce elettriche nel segno di un'avventura indimenticabile e nuove scoperte da raccontare.